Allora, quest'altra lettura che faremo qui è una lettura un po' particolare. Qualche anno fa mi ha contattato una signora di Rocca San Giovanni, che è un paese a sud, vicino Lanciano, che era stata sfollata qui a Ortona. Cioè gli ortonesi, per dirvi, mia suocera era andata sfollata ad Atri, altri da Rocca San Giovanni sono venuti qui, ma sono venuti qui non in centro, ma nelle campagne ortonesi. Lei aveva tenuto un quaderno di appunti su questa avventura della famiglia, che da Rocca San Giovanni era arrivata a Ortona, sicura di trovare ospitalità, cosa che era stata un po' anche difficile da ottenere. E poi, visto che abbiamo superato il 28 dicembre, lei racconta il suo ingresso a Ortona il primo gennaio, il nuovo anno. Quello che ha visto il primo anno. Lei si chiamava Lilia Cacchione, la figlia è una signora farmacista di Vasto, che ha voluto raccogliere questo quaderno e farne una piccola pubblicazione. Noi ci siamo incrociati per caso, abbiamo ricostruito con lei gli spostamenti della madre, che racconta di questa cosa. Lilia Cacchione. Foglietti cari, foglietti belli, diario di una ragazza abruzzese durante lo sfollamento. Era proprio il primo gennaio. Infilammo la salita senza curarci del bagno fatto e delle scarpe che non avevamo più ai piedi. Mentre nella valle tutta quella folla, compresi molti della nostra compagnia, faceva un chiasso straordinario, perché non riusciva a passare e l'acqua gelata faceva urlare i bambini, poveri innocenti. Anche loro dovevano risentire le sofferenze della guerra, barbarie dei popoli. Verso la metà della salita vidi due tedeschi che strisciavano fra gli alberi lungo la vallata. Accelerai il passo, ma di colpo mi fermai, poiché un ragazzo avanti a me si fermò, curvandosi in terra. Il cuore mi martellava in petto. Lo vidi spiare, poi rialzarsi e voltandosi mi disse «Gli inglesi». Io, sicura che mi dicesse i tedeschi a sentire gli inglesi, persi la ragione e gridai ai miei «Gli inglesi! Gli inglesi!». Neanche loro volevano crederci. Mi intimarono di fermarmi. Ma era un bel dirsi. Avevo le ali ai piedi e via, di corsa, finché ai miei occhi apparve una pattuglia inquadrata che si allontanava rigida. Allora, come il naufrago che guarda da lontano l'ancora di salvezza e fa un ultimo sforzo per raggiungerla a qualunque costo prima che sia perduto, così sentii in cuore correre, correre, toccarli per essere sicura della salvezza. Gridai «Fermatevi! Fermatevi! Non ci lasciate!». E poi «Gli inglesi! Gli inglesi!». Con un'enfasi e un trasporto di tutta la mia persona. In quel momento li avrei abbracciati tutti. Certo, dire quello che provai e che provammo tutti è proprio impossibile. Profanerebbe senza raggiungere quello che veramente sentii. Posso solo dire che la gioia grande e immensa mi faceva gridare a ogni passo «Gli inglesi!». Come se volessi convincere me stessa di quella salvezza non più sperata e far sì che la terra, i ruscelli, gli alberi, il cielo, insomma, tutto ciò che mi circondava prendesse parte alla mia esultanza e gridasse con me la dolce parola «Gli inglesi!». In quel momento non vi era parola più sublime. Finita la salita c'era da passare un'immensa pianura. Il fango, la pioggia ci ostacolavano molto il cammino. Per quelle strade di campagna molta gente, stracciona come noi, camminava affaticata in diverse direzioni. Noi, non pratici di quei luoghi, chiedemmo ad uno di loro qual era la strada che portava ad Ortona. Ci rispose di andare dritto. Fra tutte quelle casette, mezze diroccate, c'erano inglesi, canadesi, per terra scatolette vuote, armi rotte, fili spezzati. Una bimba tanto bellina piangeva nella via, sola, non ritrovava la sua mamma. Un soldato la prese in collo e si mise in cerca della madre. Sotto Ortona c'era un altro corso d'acqua da attraversare, ancora più impetuoso, con una passerella così stretta da far venire le vertigini. Così, con le mani e i piedi, strisciando, uno alla volta, superammo l'ultimo ostacolo. L'entrata di Ortona era solo un cumulo di macerie, di ferri, travi spezzate, e camminare su quei cumuli a piedi scalzi fu un affare serio. Più su, carri armati rotti, bossoli di proiettili sparsi, muri, pareti crivellate, una vera desolazione, un campo di morte, di tristezza infinita. Ci troviamo in Piazza degli Eroi Canadesi. Piazza degli Eroi Canadesi è l'ultima tappa di un percorso di memoria storica che inizia nel 1998. Ortona era la battaglia dimenticata e non risultava più oscurata da D-Day. Per puro caso, torniamo al discorso che ha fatto Pierluca sull'associazione Labirinto, uno dei progetti che abbiamo sviluppato per il cinquantenario della battaglia di Ortona era un fumetto. Il fumetto è stato scritto e disegnato dall'architetto Saverio Di Tuglio. A un certo punto questo fumetto viene pubblicato dalla casa editrice di Gaetano Basti che, identificati, sta qui, e arriva poi all'ambasciata canadese. L'addetto militare dice ma serve in inglese? Allora ci attrezziamo, io ritaglio tutte le bollicine, ci scrivo a mano la traduzione e ce l'incollo su tutto il fumetto e questo viene spedito al Ministero della Difesa in Canada. viene sottoposta a una valutazione e dicono noi una traduzione inglese e francese la vogliamo finanziare. Uscite queste due traduzioni c'è stata una presentazione e i veterani della battaglia di Ortona si sono presentati anche molto aggueriti dicendo ah, finalmente qualcuno si ricorda della battaglia più importante della storia militare del Canada. Per noi è Ortona e quindi da lì parte noi vogliamo fare vogliamo rielaborare il pranzo di Natale a Ortona ma vogliamo invitare i tedeschi e vogliamo invitare gli ortonesi ci serve una persona a Ortona. L'ambasciata mi chiama e partiamo con con l'organizzazione di questa cosa impossibile. Arrivano i veterani canadesi che hanno fatto quello che adesso si chiamerebbe crowdfunding ma nel 98 non c'era Google non c'era Internet c'era il fax c'era manco la posta elettronica questi sono andati sulle radio sulle tv sui giornali dicendo noi vogliamo riportare i veterani a Ortona per fare questo pranzo di Natale e il governo non ci dà i soldi quindi questo è stato il puntiglio che ha fatto scattare tutto il progetto dal bambino più piccolo che mandava il soldino alle associazioni agli industriali che avevano un nonno che aveva combattuto a Ortona hanno raccolto una montagna di soldi sono venuti 25 rappresentanti della prima divisione di fanteria la prima divisione armata accompagnati ed è venuta la CBC a filmare il tutto e il giornalista che ha filmato tutto era David Holzen figlio di Matthew che ha ripercorso poi le orme del papà qui a Ortona abbiamo fatto questa cena sono avanzati tanti soldi allora i veterani dicono ma sarebbe bello avere un monumento a Ortona perché c'è il cimitero ma al centro di Ortona qualcosa che parla dei caduti canadesi non c'è hanno c'è stato un giovane veterano anche lui Metti scultore che ha offerto quest'opera qua i veterani gli hanno pagato i materiali ed è venuto fuori quest'opera che si chiama Il prezzo della pace e se lo osservate è un canadese morente e il suo compagno che lo abbraccia lo accompagna verso la morte quindi questo poi è diventato il secondo passo perché c'è stato il pranzo la cena di riconciliazione poi c'è stato questo monumento abbiamo pensato bene a coinvolgere di nuovo l'architetto di Tuglio che ha progettato una base che a sapere cosa significa ogni cosa ci fa rendere conto questi sono i sassi che rappresentano il fiume Moro le macerie di Ortona e la pietra bianca della maiella della maiella madre che tutela tutto l'Abruzzo in un secondo momento questo monumento poi è stato inaugurato l'anno successivo il 1999 da Smokey Smith che è uno dei grandi eroi dell'esercito canadese che ha avvento la Victoria Cross e Smokey allora era ancora molto attivo e lui ha aperto ha aperto questo pezzo di questa piazza ancora successivamente Parks Canada che è l'ente parchi che è importantissimo sapete quanti parchi quanta natura c'è in Canada ha ha messo la sua targa ed è stata Ortona è stata inserita sulla lista dei luoghi storici dei Parks Canada quindi chi viene qui il canadese che viene qui vede il riconoscimento ufficiale da un ente molto molto uno degli enti più importanti del Canada che tra l'altro ha nominato alcune cime per la gente che ha combattuto per gli uomini che hanno combattuto nelle varie guerre è una cima si chiama Mount Campion in onore di George Campion di cui abbiamo parlato prima passa ancora un po' di tempo e i veterani dicono però sarebbe bello avere un museo vogliamo fare un museo e lì troviamo un'amministrazione che era disponibile a un certo sviluppo di cultura e di storia a Ortona la facciamo breve nel 2021 il museo della battaglia il nastro è stato tagliato da Ted Griffiths che era un carrista giovanissimo nella battaglia di Ortona e da Joop Klein che era un paragadudista un falchschermiager che aveva combattuto vicino a Ortona quindi insieme tenendosi per mano perché dopo il pranzo di Natale di riconciliazione i tedeschi gli otto tedeschi che erano venuti pagandosi da soli il viaggio l'albergo e tutto quanto erano diventati amici quindi per noi questo è stato ha cambiato la vita a tutti noi che siamo stati presenti a questo pranzo poi dal museo poi abbiamo pensato alle quattro strade perché se non si liberavano le quattro strade la curva del carro armato a Ortona non ci si sarebbe potuto arrivare e quindi arriva il carro armato che in un primo momento viene posto proprio qui e poi si è capito che forse non era non era la posizione giusta e d'accordo con i veterani l'abbiamo spostata alle quattro strade e quel carro armato per chi magari mi so che a Ortona non è sempre visto con un occhio molto positivo se uno ci va e guarda c'è una targa e ci sono 20 nomi di 20 ragazzi che non avevano compiuto i 25 anni che sono morti in tre giorni dove ci sta il carro armato dilagnati dai panzer tedeschi che non sono rientrati in Canada sono sepolti a Ortona e quel carro armato è a onore di questi ragazzi che il loro sangue ha spianato la via per Ortona che altrimenti non si passava lì e questo era dopo 17 giorni di combattimento tra cui c'era anche a parte l'attraversamento del Moro ma anche Casa Berardi il Castello di Sterlin e tutti i vari Villa Iubatti Villa Torre Caldari insomma a chiamarlo Macello e a chiamarlo poco quindi siamo arrivati al carro armato e nonostante tutta una serie di disagi eccetera questa piazza poi in onore del monumento è stato dedicato a questi eroi canadesi che in un primo momento si era detto la chiamiamo Piazza Canada il disegno è di una foglia d'acero che Google quando lo inquadra da sopra vede questo disegno e invece la sovrintendenza ci ha detto no Piazza Canada non ha un significato storico quindi questo nome è stato deciso proprio a Roma e deve essere una piazza dedicata agli eroi canadesi e così è stato e io ce l'ho solo sul telefono però se andate su Facebook l'ultimo 11 novembre qui abbiamo fatto una cerimonia in onore di queste targhe erano presenti tutti tutti i militari canadesi che sono distanza alla base Nato di Napoli quindi giovani uomini e donne che sono qui in Italia per proteggere noi e in questo momento sono in alta alerta quel giorno ogni canadese ha avuto il permesso di venire qua sono venuti con o il moglie o il marito perché loro hanno molte donne nell'esercito ma anche con i figli c'erano almeno dieci bambini sotto gli otto anni d'età e si sono messi là da Giun che era alta così a Ava che era alta così e si sono biondissimi con il papavero eleganti si sono messi là a fare la foto ricordo perché da lì hanno capito cosa fanno i loro papà e le loro mamme anche da un anno e mezzo di anni di età invece le targhe che noi abbiamo ricordato quel giorno quando abbiamo fatto la benedizione di questa piazza per me principalmente è in onore di Francesca e Maria la Sorda che vivevano in quella porta lì a fianco allo studio dove fanno i tatuaggi e Francesca e Maria erano due signorine piccole piccole magre magre le più grandi di una famiglia di diversi fratelli tutti orfani di papà cresciuti in orfanotrofio perché la mamma non poteva crescere tutta la famiglia rientrati in ortona in tempo per essere sfollati ce la facciamo proprio breve sfollate queste ragazze dopo il 31 dicembre arriva voce per le campagne che io non sono riuscita a capire dalle loro indicazioni dove stavano decidono di tornare a ortona per vedere che cosa si poteva recuperare e loro dicono mamma tu rimani qua con i piccoli un fratello era in guerra e gli altri erano proprio bambini e partono ste due ragazze e incominciano ad attraversare un campo e mi dice Francesca vediamo uno che sembra uno pazzo saltava su e giù stop 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 ci siamo fermate questo arriva camminando così e gli fa mine prendi in braccio Maria ripercorre i suoi passi la posa riparte prende Francesca ripercorre mettendo il piede dove l'aveva messo per arrivarci e le posa quindi ste due ragazze sono vive grazie a questo soldato canadese di cui non sappiamo nulla ha rischiato la sua vita quattro volte per salvarsi due ragazze quando abbiamo inaugurato questo monumento dopo qualche giorno incominciamo a trovare dei fiori freschi così tutti i giorni appena si seccavano tornavano questi fiori freschi e la gente dice ma sei tu ma no non sono io e chi è non lo sappiamo si apposta qualcuno perché a Ortone si fa presto a sapere le cose si apposta lì e una mattina vede arrivare ste due signori che andavano al mercato coperto c'erano i fiori e mettevano a posto pulivano e tutto quanto quindi poi vado busso alla porta e dico ma perché fate così e mi hanno detto noi per 55 anni noi non abbiamo la macchina al cimitero non ci possiamo andare a San Donato e noi abbiamo questo davanti a casa possiamo ringraziare chi ci ha salvato la pelle a noi e l'hanno fatto fino a quando Maria è morta proprio dentro casa dopo diversi anni e Francesca purtroppo che poi ha sofferto di demenzia e non era più in grado di stare da solo ma fino all'ultimo giorno che lei ragionava ancora i fiori freschi qui ci sono sempre stati ma da quello in casa di Francesca e Maria che vivevano non è adatto ad essere la casa di qualcuno ma loro sono rimaste lì nel buio nell'umidità nella loro dignità e lì hanno ricevuto il capo di Stato canadese e dalla loro morte quella porta è chiusa ma quello è un museo perché ci sono le foto di loro che abbracciano dai ragazzini canadesi che vengono in gita al capo di Stato che ha chiesto di andare a salutare Francesca e Maria la sorda e Francesca e Maria gli hanno fatto le neole il caffè e ci sono le foto che vengono in gita Grazie.